E' stata la pista di essere ad aggiudicarsi la sesta edizione del torneo Valtom organizzata dall'Associazione Calcio Vannucci riservata alla categoria esordienti B, anno 2005. In finale gli arancioni hanno battuto per 2-1 un coreascio via Nova che era andato in vantaggio prima di subire la rimonta dei favoriti della competizione. Al terzo posto si è classificata proprio la squadra di casa della C. Vannucci che ha avuto la meglio del Borgo Abugiano anche in questo caso per 2-1. Alla manifestazione avevano preso parte anche aglianese avanguardia Olimpia Quarrata che però sono stati eliminati nei gironi di qualificazione. Alla fine tutti felici e premiati dal presidente Vannino Vannucci e dal dirigente della Federcalcio Evaristo Mazzanti. Come da tradizione tra l'altro le coppe delle finaliste erano tutte uguali dato che il fair play per questa categoria è d'obbligo. Sì, è una bella soddisfazione anche perché sei anni che lo facciamo qui a Boario è sempre riuscito bene. Poi questi ragazzi sono contentissimi che si vuole di più. Il livello è stato medio, non eccelso ma neanche scadente. Però c'è stata molta correttezza e questo fa ben sperare per il futuro di questi ragazzi.